Cari amici abbiamo alle nostre spalle una settimana che ha registrato sul piano politico, sul piano dei rapporti con il governo alcuni episodi sconcertanti ed altri episodi diciamo confortanti. In questo momento si sta discutendo una prima questione se aprire la mobilità interregionale oppure mantenere ancora dei limiti. Noi siamo un paese nel quale le questioni di merito anche più semplici da risolvere sulla base di criteri oggettivi diventano battaglie ideologiche. Quando abbiamo parlato della mobilità fra le diverse regioni, almeno per quello che riguarda la Campania, abbiamo fatto riferimento a un dato preciso, qual è il numero delle persone contagiate in un territorio o in un altro. Ed è del tutto ragionevole che se abbiamo un territorio nel quale abbiamo un numero altissimo ancora di contagiati, questo territorio debba avere delle limitazioni per quanto riguarda la mobilità. Quindi un problema molto semplice e molto di merito. Non c'entrano i rapporti Nord-Sud, le guerre di religione. Ancora oggi noi non abbiamo da parte del governo la definizione di un criterio semplice, indiscutibile, che consenta di attivare la mobilità interregionale. Ci auguriamo ovviamente che il Governo nazionale faccia delle scelte ragionevoli e sempre con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione dei focolai di contagio in tutta Italia. Questo è tutto. Per quello che ci riguarda ovviamente noi cercheremo di tutelare fino in fondo la situazione epidemiologica della nostra regione. Cercheremo di evitare la diffusione di contagio e di focolai. Io sono fra quelli che continuano ad avere una grande preoccupazione. Vedo troppa gente ormai completamente tranquilla. Il problema dell'epidemia ormai è stato rimosso dappertutto. Io non la penso così. Continuo ad avere una preoccupazione che non si diffonda il contagio. Comunque vedremo quello che decide il Governo e responsabilità del Governo. Sarà poi nostro dovere cercare di tutelare comunque al meglio la nostra comunità per evitare la diffusione di focolai. È giusto il caso di ricordare che la regione Campania è l'unica regione che ha difeso con determinazione l'unità nazionale. Credo che siano volgari, stupide e intollerabili guerre di religione fra nord e sud con questi chiari di luna. Ma ricordo che la regione Campania ha difeso sempre, quando si parlava di autonomia differenziata, ma anche una settimana fa, quando il Governo ha delegato le regioni a stabilire se c'era l'epidemia o meno, ha difeso sempre l'unità d'Italia. E dunque ne approfitto anche in questa occasione per lanciare un messaggio di solidarietà agli amici in particolare della Lombardia, di solidarietà al collega amico presidente Fontana per le minacce che ha avuto. E ricordare anche che noi siamo gemellati perfino con Milano perché abbiamo un gemellaggio in atto fra l'ospedale Cardarelli di Napoli e l'ospedale Niguarda in un clima di grande collaborazione, amicizia e rispetto reciproco. La seconda questione che sta impegnando il Governo è la scelta della data delle elezioni regionali. E qui credo che il Governo abbia assunto posizioni francamente irresponsabili. Premetto ovviamente che la data delle elezioni la fissano le regioni, non il Governo nazionale. ma il Governo come sapete ha escluso due mesi fa con un decreto nazionale, eravamo nel pieno ovviamente dell'epidemia, che si facessero le elezioni prima di settembre. Che cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo questo, che in Italia abbiamo aperto tutto. Abbiamo aperto i negozi, abbiamo aperto i centri commerciali, abbiamo aperto le palestre, le piscine, abbiamo aperto tutto. Diventa francamente ridicolo in queste condizioni impedire che si vada a votare da qui a due mesi, perché la proposta delle regioni che devono andare a votare è di votare a fine luglio, l'ultima settimana di luglio, fra due mesi. Ora, quando il Governo dice contemporaneamente apriamo le scuole a settembre e poi votiamo il 20 settembre, sta prendendo in giro l'Italia. Chiarisco fra parentesi che chi non vuole andare a votare sono le forze di opposizione. la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i Cinque Stelle. Questo c'è stato comunicato dal Ministro dell'Interno per quanto riguarda le opposizioni. Hanno paura di andare a votare, vogliono perdere tempo. Perché questa sarebbe una cosa irresponsabile? Provate a immaginare di andare a votare il 20 settembre. Le opposizioni propongono addirittura il 27 settembre. 27 settembre significa che i ballottaggi nei comuni che vanno al voto avvengono a metà ottobre, quando avremo l'epidemia influenzale e avremo anche, ci auguriamo di no, ma è prevedibile che ci sia un ritorno di Covid. Quindi avremo una situazione sanitaria complicatissima. Ma soprattutto come si fa a immaginare di aprire l'anno scolastico a settembre, avendo il 20 settembre a data elettorale, quando si aprono le scuole? Per aprire le scuole bisogna fare un lavoro enorme quest'anno per trovare nuovi spazi, per dividere le classi, per avere la possibilità di distanziare i ragazzi. Un lavoro incredibile. Che cosa si fa? Si apre per una settimana, poi si chiude di nuovo, perché bisogna fare la sanificazione prima dell'elezione, poi 48 ore per il voto, poi bisogna smontare le cabine elettorali, poi bisogna rifare la sanificazione, cioè noi l'anno scolastico lo apriamo a ottobre, ma a metà ottobre ci sono i ballottaggi. Ma come si fa? Ma come si fa ad essere così irresponsabili? Mi riferisco alle forze politiche che stanno impedendo il voto nell'ultima settimana di luglio, quando ragionevolmente potremmo votare e dedicarci poi a settembre a fare il lavoro necessario per aprire le scuole, dare respiro alle famiglie e fare per quello che riguarda la regione il lavoro sanitario che sarà indispensabile. Perché dovremo fare i tamponi, almeno questo pensiamo di fare in Campania, a tutto il personale scolastico, docente e non docente. Che facciamo? Apriamo senza aver fatto uno screening di massa sul personale scolastico. Abbiamo fatto la riunione con i pediatri, i pediatri ovviamente ci chiedono di poter prescrivere i tamponi anche per la scuola dell'obbligo, anche per le materne. Sarà un problema complicatissimo perché per gli elementari puoi anche avere il distanziamento, ma per le scuole materne come fai a distanziare i bambini? Quindi dovremo avere un meccanismo di controllo attento e ripetuto. È possibile fare tutto questo lavoro avendo da preparare la campagna elettorale e avendo le istituzioni distratte sul tema istituzionale. Ad oggi nessuno ci ha dato una risposta da paese serio. Non si può votare, andiamo a settembre e andiamo in questa condizione di totale disastro. L'importante ovviamente è sapere chi ha la responsabilità per queste scelte se continueranno a mantenere questa posizione. Decreto rilancio che è in discussione al governo. Questo decreto rilancio prevede una penalizzazione delle zone rosse non statali. Abbiamo fatto presentare degli emendamenti, mi auguro che siano accolti perché questo serve a non penalizzare ma a dare una mano ad Ariano Erpino e al Vallo Idiano, che per quello che riguarda la Campania erano zone rosse. Abbiamo fatto presentare, ho fatto presentare degli emendamenti che riguardano la sanità. Sapete che in questo decreto è prevista l'utilizzazione di 3 miliardi e 100 milioni aggiuntivi per la sanità. Sapete che nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale la Campania viene derubata ogni anno di 300 milioni di euro. Sapete anche che oggi la regione Campania riceve 45 euro pro capite in meno rispetto al Veneto, 40 euro pro capite in meno rispetto alla Lombardia, 60 euro in meno rispetto all'Emilia, 30 euro in meno rispetto al Lazio. Cioè siamo la regione che riceve meno risorse sul Fondo Sanitario Nazionale. Bene, abbiamo detto siccome vi sono 3 miliardi e 100 di risorse aggiuntive, cerchiamo di fare cose civili, almeno ora. Cioè cerchiamo di recuperare perlomeno la metà del divario che c'è fra quello che riceve la Campania e la media pro capite nazionale. Vediamo che cosa risponderanno le forze politiche nel Parlamento italiano. Credo che sia bene che i nostri concittadini guardino questi problemi, al di là di tutte le chiacchiere. C'è gente che consapevolmente, forze politiche che consapevolmente, rapinano la regione Campania di 300 milioni di euro l'anno. Vedremo quello che faranno. Abbiamo anche avanzato una proposta, che io rilancio, di consentire l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per le autorità portuali del nostro Paese e per quello che ci riguarda per l'autorità portuale che riguarda i porti di Napoli, Salerno, Castellammare e quant'altro. Vi sono, per la nostra autorità portuale, credo 60 milioni di euro, 50-60 milioni di euro di avanzo di amministrazione disponibili. Credo che si dovrebbe portare al 90% la soglia di utilizzabilità di queste risorse. Rimane sullo sfondo un altro problema che abbiamo sollevato qualche settimana fa. Fra le tante penalizzazioni che riceviamo come regione Campania, non parlo di lamentazione, parlo di soldi, quindi dati precisi, vi è un altro furto fatto a danno della Campania da parte del Ministero dell'Economia che deve restituire alla Campania 240 milioni di euro come sancito da una sentenza della Corte dei Conti. Ma fanno finta di non sentirci. Ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, non ho avuto ancora ritorni. Ne ho parlato ovviamente a lungo con il Ministro dell'Economia, che è una persona mica e garbata, ma che mi auguro di accenni inequivoci di esistere. Non vorrei che nel frattempo fosse ispirato e non vorrei leggere su qualche manifesto nel Centro Storico di Roma che la sua anima è volata a Po l'Altissimo, lasciandoci in questa valle di lacrime a combattere per avere quello che il Ministero ci ha tolto. Continueremo la nostra battaglia, ma è bene che i nostri concittadini lo sappiano ed è bene che sappiano anche che forze politiche campane, esponenti politici campani, non stanno facendo niente per la Campania. Infine, per quanto riguarda queste vicende nazionali, possiamo avere un elemento di conforto, perché nel frattempo hanno deciso che impiegheranno 60.000 assistenti volontari. Noi magari pensavamo ai 240 milioni al Fondo Sanitario, le cose... Bene, il Governo, devo dire che ci apre comunque il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato. E infatti ha deciso questa straordinaria operazione, direi mistica, perché 60.000 volontari, assistenti volontari, che cosa devono fare? Abbiamo posto questa domanda. Che faranno questi volontari? Possono fare la multa a chi non porta la mascherina obbligatoria? No. Possono fare una multa a chi non mantiene i tavoli e i ristoranti distanziati? No. Possono intervenire a controllare un po' la movida? No. Possono regolamentare un po' il traffico? No. E allora noi ci domandiamo che cosa devono fare questi 60.000. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion, cioè faranno in pratica gli esercizi spirituali. Quindi noi vedremo 60.000 persone andare in giro con il saio, con sopra scritto pentiti e colpa tua, nei vicoli, nei mercati, tra gli stand dei ventitori, diciamo, di frutta. Abbiamo anche domandato, ma saranno persone con una qualche specializzazione per fare la moral suasion? Saranno sociologi, psicologi, educatori? No. Hanno fatto una formazione professionale? No. Si sono formati alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il nulla. Bene, possiamo consolarci. Il governo ha deciso di ridare vita, come è evidente, dopo otto secoli, al movimento degli spirituali, a quegli allievi di Ubertino da Casale e Jacopone da Todi, che andranno in giro per i nostri centri storici a portare la buona novella, a fare moral suasion. Mi auguro soltanto che non vengano alla fine a bussare alle nostre porte di casa alle tre di pomeriggio, quando qualcuno di noi si sarà appena assopito per farsi mezz'ora di pennichella, al ristoro delle tante tensioni che ci vengono da Roma. assistenti volontari, assistenti spirituali volontari. Mi auguro che non creino fastidio alla protezione civile che sta facendo un lavoro eccezionale. Non vorrei che si dovessero caricare pure gli assistenti spirituali. a volte sembra davvero di doversi convincere che in questo paese l'unica cosa seria è il cabaret. Veniamo a noi, veniamo a noi. Ovviamente noi nei prossimi giorni aspetteremo di sapere se aprono una finestra per fissare il voto, se ci restituiscono i fondi rapinati dal Ministero dell'Economia, i fondi della sanità. Nel frattempo, ripeto, saremo coinvolti in questo afflato spirituale con i volontari. in Campania, dove come sapete noi siamo modesti artigiani della politica e non abbiamo questi slanci mistici, ci siamo preoccupati di fare una bella operazione di cui siamo orgogliosi. Da oggi vengono accreditate pensioni al minimo raddoppiate, cioè la Regione Campania ha deciso di pagare per ogni pensionato al minimo, parliamo di 230.000 persone anziane, 500 euro in più per il mese di maggio e il mese di giugno. Abbiamo fatto una convenzione con l'Inps, molto complessa. Io devo rinnovare il mio ringraziamento intanto ai dipendenti dell'Inps. L'Inps, come sappiamo, è sottoposta a un sovraccarico di lavoro in questo periodo. Ci hanno dato una mano a dare vita a questa convenzione. È chiaro che hanno mostrato un grande attaccamento del lavoro e di questo ringrazio i dipendenti dell'Inps, il Presidente Tridico, i dirigenti dell'Inps che ci hanno consentito di arrivare a concludere questa operazione. Dunque la Regione Campania, unica in Italia, decide di raddoppiare le pensioni al minimo per 230.000 persone. Lo abbiamo fatto per una ragione ideale, perché i nostri anziani sono gli ultimi fra gli ultimi, per una ragione sociale, perché spesso i nostri pensionati utilizzano quel poco che hanno per dare una mano ai propri figli, ai propri nipoti. E ci è perso un atto doveroso di rispetto, ma anche di aiuto concreto a tanta gente per la quale la povertà non è un'espressione letteraria, ma è una condizione di vita. Parte da oggi anche il contributo integrativo che abbiamo deciso di dare agli stagionali del turismo per quattro mesi, 300 euro al mese per quattro mesi. Ovviamente chi va a percepire la pensione direttamente agli sportelli postali dovrà andare dal 4 giugno, per il resto facciamo gli accrediti direttamente sui conti correnti, sui libretti postali e quant'altro. Siamo orgogliosi come cittadini campani di aver condotto in porto questa grande operazione sociale che si aggiunge ai 2.000 euro dati a oltre 100.000 piccole imprese, ai professionisti, alle famiglie con disabili, alla povera gente. Credo che nessuno abbia fatto in Italia quello che abbiamo fatto noi, sul piano sanitario, sul piano della sicurezza e sul piano sociale ed economico. Non troverete sui grandi organi di informazione nazionali, nei notiziari televisivi, queste notizie. Troverete il gossip o tropperete la politica politicante a cui facevo prima. Magari troverete qualche accenno al movimento degli spirituali e a Ubertino da Casale, ma non troverete accenni all'operazione sociale più importante fatta in Italia da una regione. Questa sulle pensioni al minimo e in generale il piano socio-economico della Campania. non dico le cose che stiamo facendo sui singoli settori. Abbiamo aperto tante, tante attività, per ultimo le palestre, le piscine e quant'altro. Abbiamo fatto una bella iniziativa a Ravello, credo sia il 140esimo anniversario dell'arrivo di Wagner a Ravello. Abbiamo prodotto un video non solo per tenere vivo anche sui social il festival di Ravello, ma vogliamo utilizzare questo video soprattutto come inizio di una campagna di promozione per il turismo campano e italiano. A proposito di Ravello, voglio salutare e ringraziare un grande scrittore che ha scritto Antonio Scurato una pagina molto bella sul Corriere, ricordando anche con nostalgia Ravello e cogliendo l'occasione per ricordare che l'Italia è fatta di mille cose. Sono d'accordo, ho sempre detto che l'Italia non sarebbe l'Italia, senza Milano, senza la sua finanza, il suo dinamismo, ma l'Italia non sarebbe l'Italia neanche senza Napoli e il suo umanesimo e la sua musica, il suo teatro e senza l'anima del Sud. L'Italia è l'Italia per questo, perché siamo tutti insieme una grande comunità, ricca, a volte anche con aspetti contraddittori, ma siamo l'Italia perché abbiamo questa ricchezza. Allora utilizzeremo questo video per proporlo soprattutto in Germania per cercare di attivare un flusso turistico verso l'Italia, la Costiera Amalfitana, Ravello, le isole. Il presupposto per alimentare il turismo è fare le persone serie. Lo slogan sarà Campania Sicura. Arriveranno da noi non solo perché abbiamo territori benedetti da Dio e di una bellezza sconvolgente, ma anche se presenteremo un territorio sicuro. Quindi suggerirei a tutti di non fare uscite a capoggia. Apriamo tutto per fare un po' di propaganda e di demagogia. Noi dobbiamo sempre garantire che il nostro territorio è sicuro. Questo è il presupposto di tutto. Stiamo facendo incontri con singole categorie ancora in questi giorni. L'obiettivo della Campania è aprire tutto, ma aprire per sempre. In queste ore avrete letto, avrete ascoltato nei notiziari televisivi che in Corea hanno richiuso la capitale, Seoul. Seoul, tanto per intenderci, significa il doppio della popolazione della Campania. Sono 12 milioni di abitanti. Avevano aperto, liberalizzato tutto due settimane fa. Adesso hanno verificato che c'è stata un'esplosione di contagio, hanno richiuso. In Campania dobbiamo evitare assolutamente questo percorso, aprire e poi chiudere. Per questo ci serve camminare con serietà, aprire tutto ma per sempre. Abbiamo deciso di riaprire le attività di wedding, delle aziende che celebrano, organizzano matrimoni. È un bel pezzo di economia campana, quindi da metà giugno partirà il wedding. Abbiamo preso delle decisioni, cioè noi ci orientiamo di settimana in settimana, come inevitabile che sia, per rimodulare le ordinanze. Quindi abbiamo deciso di prolungare l'orario anche dei bar fino all'una di notte, ma la vendita di alcolici sarà vietata alle 10 di sera fuori dei locali. Quindi si potrà stare seduti anche nei bar, l'orario dei bar è prolungato fino all'una di notte, ma non è consentita la vendita. consentita la vendita per asporto di alcolici, ci si potrà servire al banco con le norme di sicurezza, ma non prendere alcolici e andarsene in giro. Voglio rivolgere anche qui un saluto affettuoso ai ragazzi e alle ragazze che escono di sera anche per fare la movita. Il 90% sono bravissimi ragazzi che cercano solo di incontrarsi e di vivere in allegria. Il problema non sono loro, noi lavoriamo per tutelare questi ragazzi. Il problema non sono il 90% dei gestori di bar, di pub, che sono persone perbene e che a volte hanno messo in piedi dei locali che sono bellissimi. Il nostro problema è fare in modo che quel 10% di irresponsabili creino problemi per la movida e creino problemi anche per la diffusione irresponsabile di superalcolici. Mi permetto di dire ai ragazzi, evitate di comprare i superalcolici che fanno schifo perché se vi vendono vodka a 50 centesimi al bicchiere dovete sapere che quella vodka non viene da San Pietroburgo ma viene distillata nelle reti fognarie delle nostre città. Va bene. Allora noi vogliamo che parta la movida che sia fatta di momenti di allegria, di serenità, di gioia nessuna violenza niente cafonerie niente baby gang niente atti di bullismo non è impossibile vivere con allegria ma in serenità e in sicurezza le nostre serate. Quindi un saluto affettuoso alle ragazze e ai ragazzi stiamo lavorando anche per voi per garantirvi serate di tranquillità e stiamo lavorando per tanti gestori di bar e di pub per consentire loro di aprire tutto adesso abbiamo fissato l'una di notte per le chiusure ai bar non i ristoranti e le pizzerie ci regoleremo di settimana in settimana a seconda dell'andamento dell'epidemia credo che consentiremo anche ai comuni di fare richiesta per aprire in deroga al di là degli orari fissati dalle ordinanze pezzi di città se si ritiene che un pezzo di città possa andare oltre quest'orario anche per attrarre lì ragazzi quindi decongestionare i centri storici questo sarà possibile ovviamente si faranno le richieste saranno valutate dalla task force ma abbiamo l'orientamento ad avere il massimo di apertura noi siamo impegnati a creare economia e ricchezza ma per sempre non per finta quindi facendo cose irresponsabili che poi ti costringono a richiudere prepariamoci lo dico alle persone più anziane alle vaccinazioni dobbiamo avere il 100% di vaccinati contro l'influenza nell'incontro con i pediatri ovviamente abbiamo parlato anche delle vaccinazioni che devono essere fatte a maggior ragione a tappeto anche per la popolazione infantile ci stiamo preparando per avere per settembre una macchina da guerra per fare tamponi e test sierologici garantiremo tempi di lavorazione lo dico per rispondere ad una richiesta del sindaco di Nocera Inferiore o faremo per l'agro sarnese Nocerino daremo a tutti i territori la possibilità di di avere screening in tempi rapidi anche in autonomia se sarà possibile non abbiamo problemi abbiamo fatto un'operazione straordinaria e voglio concludere con questa notizia ad Ariano Irpino ne approfitto per ringraziare ancora una volta l'ho già fatto la scorsa settimana per ringraziare di cuore i cittadini di Ariano Irpino che hanno dato una prova eccezionale di senso civico e di disponibilità in nessuna parte d'Italia è stata fatta una campagna di test sierologici con il prelievo del sangue quindi non la puntura sul dito il prelievo venoso ed abbiamo avuto una risposta dai cittadini di Ariano eccezionale come in nessun'altra parte d'Italia e questo test sierologico che abbiamo fatto sarà messo a disposizione della comunità scientifica nazionale ovviamente ribadisco quello che ho detto alle poche persone che con comportamenti irresponsabili hanno determinato problemi seri abbiamo fatto un investimento enorme su Ariano dai controlli derivanti dai test sierologici ci sono immersi 650 soggetti risultati positivi alla ricerca sul virus 650 significa che hanno sono entrati in contatto hanno maturato anticorpi rispetto al covid-19 su questi 650 soggetti risultati positivi al test abbiamo fatto poi il tampone che è l'unico strumento davvero affidabile per verificare poi la positività attuale il test sierologico ci parla anche di cittadini che magari hanno avuto il contagio due mesi fa sei mesi fa e quant'altro sui 650 soggetti a cui abbiamo fatto il tampone sono risultati positivi 60 cittadini che è il 9,2% dei testati complessivamente abbiamo lo 0,44 dei positivi sul totale della popolazione sottoposta a screening parliamo di 17.823 residenti la cosa importante è che la carica virale che si è registrata è stata molto bassa quindi erano persone asintomatiche o anche positivi però non in grado di contagiare gli altri tuttavia per fare un'operazione di rigore assoluto e per dare ad Ariano la serenità per sempre metteremo ovviamente in isolamento le persone positive in maniera tale da avere il massimo di tranquillità ricostruiremo la catena dei contatti e così via ma in questo modo con questo investimento noi daremo serenità a tutti i cittadini di Ariano è stato un impegno straordinario della regione che meritavano i cittadini di Ariano che hanno sofferto e che meritava la nostra regione perché noi dobbiamo fare sempre un'operazione di verità non è che dobbiamo nascondere i problemi quanto ci sono se c'è un focolaio noi dobbiamo spegnerlo definitivamente grazie ai cittadini di Ariano grazie di cuore perché davvero hanno dato una prova straordinaria di spirito civico non perdo tempo con i due o tre che hanno cercato di fare un po' di sciacallaggio politico e sono due o tre che non hanno mai fatto niente per Ariano tanto per dirvi un'altra cosa ai cittadini di Ariano sapete quante sono le imprese di Ariano alle quali la regione ha dato il contributo a fondo perduto di 2.000 euro 511 sapete quanti sono i professionisti di Ariano che hanno avuto il contributo di 1.000 euro dalla regione Campania quasi 300 quindi abbiamo portato sul territorio di Ariano 1.300.000 euro come regione Campania anche questo è un segno di attenzione per tutta la regione ma che ha avuto una ricaduta importante anche su Ariano devo dirvi anche un'altra cosa mi hanno raccontato che l'industria del webbing dei matrimoni è fortemente presente proprio ad Ariano ci sono molti locali molte come dire location molto belle che vengono utilizzate per i matrimoni questa operazione di messa in sicurezza servirà per rilanciare anche l'industria del wedding ad Ariano il P vedete quante belle cose cerchiamo di ricavare da quella che è stata una tragedia per Ariano per la provincia di Avellino e per tutta la Campania allora come sempre un saluto affettuoso ai nostri concittadini e la raccomandazione di indossare la mascherina fa caldo e lo so pure io fa caldo e che dobbiamo fare qui Campania la mascherina è obbligatoria un invito non vi abbassate la mascherina quando parlate a 50 centimetri di distanza perché esattamente quella la situazione nella quale la mascherina va tenuta alzata se no che ve la mettete a fare perché proprio quando c'è il colloquio ravvicinato che si possono trasmettere micro goccioline di saliva non è complicato da capire basta rifletterci un attimo quindi un po' di sacrificio manteniamo le mascherine perché questo ci aiuta ad evitare il diffondersi del contagio ieri sera abbiamo avuto dieci casi positivi nessuno di Ariano che bella soddisfazione nessuno di Ariano ma per dirvi che avanti ieri eravamo a quattro positivi dieci ieri c'è quest'altalena che almeno per quello che riguarda me è un motivo di tensione permanente vi ripeto psicologicamente ormai ma questo vale per tutta Italia abbiamo quasi rimosso il problema dell'epidemia è anche comprensibile sul piano umano ma chi ha responsabilità istituzionale non può dimenticare neanche per un attimo che il problema è dietro l'angolo le mie serate sono intossicate dall'orario delle 22 perché fra le 22 e le 22 15 mi trasmettono il dato sui contagi e io fino alle 10 di sera sto appeso quanti ne avremo questa sera ieri 10 e comincia poi la ricerca ma di dove sono i 10 contagiati allora uno la provincia di Salerno uno è l'area nord di Napoli ma erano focolai no non erano focolai casi singoli ma l'asle è impegnata a ricostruire i contagi 10 contagiati significa che dobbiamo controllare perlomeno 100 persone che sono entrate in contatto non è un lavoro entusiasmante è un lavoro snervante logorante ma dobbiamo farlo senza distrarci almeno noi che abbiamo responsabilità per garantire ai nostri concittadini la serenità di vita soltanto una cosa aiutateci ad aiutarvi con comportamenti responsabili un saluto affettuoso a voi e alle vostre famiglie